Libertà. Cecilia è dalla nonna, passiamo l'weekend al lago. Ho una mezza paranoia, il gas è chiuso? Guarda, ho fatto una foto. Chiuso. Le luci? Spente. Le finestre le ho chiuse io. Le piante sul balcone? Ho chiesto al signor Antonio se ce le bagna lui. Le tapparelle! Non le ho chiuse, va bene? Una svista, può capitare. Te l'ho detto quattro volte. Ma adesso ti faccio una magia, le chiudo da qui con il telefono. No, 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 no! Problema risolto. Calma, il cellulare. No, vai in casa! Ho perso la mia buona stella. Solo la luna e il suo candore mi stanno ad ascoltare quando non parlo più. Tu puoi girare il mondo, ma come stai bene a casa tua, eh? O no? Ma... Ma... Ma signor Antonio! Che bello, ma ci ha fatto una sorpresa! Ah, ah, pua! Ah, pua! Alla... Deveva...